La riunione per il sindacato rappresentava l'ultima possibilità di trattativa dopo l'apertura dello stato di mobilitazione e il fallimento del tentativo di conciliazione in abi dello scorso primo giugno. In una nota unitaria, Wilka, di credito Fabi, Fibacisl, Fisac, CGL, Sinfub e UGL hanno dichiarato che l'azienda non ha risposto alle richieste sindacali e ha avviato in modo provocatorio una nuova procedura con la richiesta di 250 milioni di euro di taglia al costo del lavoro. Una iniziativa ritenuta grave e inaccettabile dal sindacato che ha ribadito contrarietà alla cancellazione dell'accordo di gruppo del 29 luglio 2011 e all'annullamento dell'attuale impianto normativo aziendale. Patrizio Ferrari, segretario responsabile della Wilka del gruppo Intesa San Paolo, ha dichiarato che la Wilka ha avuto un ruolo determinante di proposte e analisi rispetto alle tante questioni che interessano il gruppo Intesa San Paolo e nella evoluzione della situazione che ha portato le organizzazioni sindacali ad aprire l'attuale stato di mobilitazione allo sciopero con cui respingiamo il tentativo aziendale di scaricare nuovi sacrifici sui lavoratori. Il tema degli esodati continua ad essere un problema aperto che riguarda direttamente anche il settore del credito. Il 19 giugno si sono svolti i presidi sindacali in varie piazze italiane per sostenere le ragioni dei lavoratori. Vediamo il servizio. È stata una protesta che ha coinvolto le piazze di molte città italiane, in particolare Roma, Napoli e Milano, cui si riferiscono le immagini, quella realizzata con i presidi organizzati lo scorso 19 giugno per sostenere i lavoratori esodati che ancora vivono una situazione di profonda incertezza per quanto concerne il ricevimento delle mensilità e per la data di accesso alla pensione. Una situazione aggravata dalle continue divisioni che si registrano tra il Ministero del Lavoro e l'Inps sul numero effettivo dei lavoratori in esodo, la cui indeterminatezza è tra le cause del fatto che ancora il Governo non ha dato risposte che garantiscono la loro totalità e tutte le varie situazioni in essere. Il Segretario Generale della Wilka, Massimo Masi, partecipando al Presidio di Napoli, ha chiesto che il Governo faccia chiarezza ponendo fine a questa assurda situazione tipicamente italica, mentre Labi si incarichi di intervenire presso il Governo e i partiti politici per mettere fine a questa assurda pantomima. Ai presidi hanno partecipato folte delegazioni della Wilka, a dimostrazione della sensibilità con cui l'organizzazione segue il destino di questi lavoratori, posti in questa situazione preoccupante e la determinazione tramite la quale si chiedono soluzioni certe e immediate perché nessuno si è lasciato solo e senza garanzie economiche e normative. Cambiamo ora argomento. È stata una straordinaria prova di solidarietà per tempismo e generosità. Con queste parole il Segretario Generale della Wilka, Massimo Masi, ha commentato il raggiungimento dell'obiettivo inerente all'iniziativa di solidarietà avviata a favore del Comune di Sant'Agostino, centro del Ferrarese colpito dal terremoto. La somma di 25 mila euro necessaria per pagare i campi solari, centri estivi in genere a carico interamente del Comune, dei figli degli operai, che sono in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro a causa del terremoto, è stata raggiunta grazie al contributo di tutte le strutture della Wilka e di lavoratrici e lavoratori iscritti al sindacato. Il 29 giugno la Segreteria Nazionale Wilka si recherà presso il Comune di Sant'Agostino per visionare i campi solari e trascorrere una giornata insieme ai bambini destinatari dell'iniziativa. Seguiremo l'evento che nelle nostre telecamere ve ne daremo riscontro nei prossimi appuntamenti con l'informazione della Wilka nazionale. Ed era l'ultima notizia per un Bortigi è tutto. Noi ringraziamo come sempre per la gentile attenzione e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci! Grazie a tutti!